ben ritrovati di nuovo su review you mi trovo nella mia home gym e oggi voglio presentare questo nuovo prodotto che ho acquistato per la mia home gym si tratta delle push up bar per andare ad effettuare esercizi al petto a terra senza andare a lesionarvi i polsi perché appunto senza le push up bar rischiate un po di lesionarvi i polsi quindi ve ne vado a mostrare subito e vi dico che l'acquistate su agiexpress ad un prezzo di 7 euro vi lascio il link in descrizione del prodotto così potete acquistarle anche voi sempre se vi piacciono e vi dico già che i materiali sono veramente resistenti si tratta di una plastica dura in pvc quindi è bella piena resistente al di sopra avete questa copertura in spugna anti sudore antiscivolo per andare ad effettuare un ottimo grip e poi avete la parte sotto che ha anche queste due diciamo coperture gommate antiscivolo si va semplicemente ad incastrare la prima parte e la seconda parte come anche per l'altro pezzo e avete la vostra push up bar che potete andare ad utilizzare sia nella vostra home gym e anche all'aperto quindi potete trasportarvele senza problemi e smontarle eventualmente mettere anche in valigia che vi permettono di fare qualsiasi esercizio vedete come sono hanno questa forma diciamo un po inclinata e quindi sono studiate appositamente ecco come si presentano una volta assemblate sono veramente resistenti come vedete stabili non si muovono e adesso farò giusto una prova per farvi vedere che regola